Nella prima parte abbiamo visto un servizio sull'addio a Mario Angeli, il nostro collaboratore. Adesso noi vi proponiamo un omaggio, un omaggio musicale con alcune... questa è un'idea che ci è venuta poco prima di andare in onda... una clip con alcune delle fotografie che Mario Angeli ha scattato per noi, momenti difficili di cronaca nera e altri sicuramente che riassumono la brevità del quotidiano. Può partire il servizio. Il fuoco violento dei prati, un uccello isolato raccoglie sopra un vagone abbandonato. Un uccello grande di ottobre, egli strappa al fianco bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporti di mostri e mille macchine in fila laggiù, in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco, mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono. Un poco rocco, chiudo il giornale e la guardo... Addio Mario, riposo in pace, ora che puoi riabbracciare Ugo, Luciano Padovese, Gigi Doretto e soprattutto la tua Simonetta. Grazie. 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 Grazie.